Abbiamo giocato, quindi abbiamo perso tempo sicuramente, abbiamo fatto una partita la più brutta sotto la mia gestione, compresa quella dell'andata, quindi niente, c'è poco da commentare, abbiamo fatto una bruttissima figura, abbiamo creato una partita e poi un'altra, niente, purtroppo è possibile, ci sono in capo li mando io, quindi non sono stato così non sono stato così, a prima mese a fargli capire l'importanza della gara, era una gara che secondo me potevamo giocare, come abbiamo giocato sempre con tutti, ma invece ci siamo fatti soccrestare sia dal punto di vista ai profil dati con finità elementare, eravamo grandi remarcature, quindi c'è poco da dire della gara, poco da dire. Anche perché terma arrivava la quarta risultata di ultimi fila in trasferta e soprattutto aveva vinto in campi, per esempio dove il Pordenone non aveva vinto, a parte che poi ogni partita a un suo copione, però queste erano le statistiche. Sì, abbiamo fatto percorsi importanti fino ad oggi, oggi abbiamo fatto una brusca frenata, ma adesso è rivolta alla partita di Salvalo, perché comunque abbiamo una partita di vitale importanza domenica in casa, di Salvalo in casa, e dobbiamo pensare soprattutto ad affrontare quella partita, questa l'abbiamo giocata male, atteggiamento sbagliato, tutti veramente abbiamo fatto veramente una cosa, non me l'aspettavo mai una prestazione del genere, però bisogna tenerne atto e non deve neanche capire perché, perché c'è poco tempo, ne raccomano soltanto tre partite, quindi dobbiamo solo aspettare la gara di sabato e fare una settimana buona per prepararci sabato a fare una battaglia in casa con la vispese. Quanti punti mancano alla salvezza se può lavorare in vista? Senti, i risultati di questa sera credo uno, due punti, due tribunali, i risultati sono sempre, si allunga sempre di più, però credo che siano sufficienti un po' di punti. da conquistare sabato appunto per... Senta, una domanda sul terzo gol, che c'è stato quel candellone si è tolto da Omagnaghi, adesso non mi ricordo, dalla posta di fuorigioco. Stavo io che mi stavo quasi in linea, mi sembravano tutti due fuorigioco. Si, è barso anche dalla tribuna, dato che poi da lì è nata la vostra protesta molto accesa, ovviamente l'investizio sull'andamento della gara che sarebbe finita così, però volevo una sua battaglia su quell'episodio. Siamo molto fortunati con gli altri, ma questo è soprattutto ultimamente un po' da reclamare, però credo che un episodio possa condizionare in vista partita. Su questa partita c'è un po' da reclamare, in generale è così, ma su questa partita c'è un po' da reclamare. Si, si, però lei sembra attaccare il fuorigioco. Si, si, sembra molto netto, si.